Un passo importante che nasconde criticità e problemi come del resto succede sempre quando si pone mano al settore della scuola. Ne è convinto il professor Mario Bonini, preside del liceo Medi di Villa Franca e coordinatore dei dirigenti scolastici della provincia di Verona. Il concorsone, così come viene chiamato, alcune risposte al settore le darà senz'altro. Sono insegnanti che sono abilitati e quindi metteranno a prova la loro cultura, la loro preparazione. Dietro alle spalle però ci sono già tantissime migliaia di persone che hanno ricorso perché o non sono abilitati o sono semplicemente laureati, vogliono comunque accedere al concorso e sembra che possano farlo perché il Tar del Lazio per esempio ha già autorizzato questa cosa. Quindi credo che il concorso non avrà una vita facilissima nelle conseguenze. Una prova particolare, no? È una prova, sì, dicevamo online, per cui le scuole che sono state selezionate mettono a disposizione i loro laboratori informatici, si svolgono quindi a computer, i candidati dovranno rispondere a otto domande, specifiche ovviamente per la loro materia, due delle quali sono in lingua inglese. Il concorso della scuola che si è messo in movimento alle otto di oggi chiuderà i battenti il 31 di maggio per quanto riguarda le prove scritte. In estate poi, per chi le avrà superate, gli orali. Oltre 165.000 i professori precari in corsa per aggiudicarsi una delle 63.700 cattedre a disposizione in tre anni, con i primi professori di ruolo già da settembre. Non so se questo riuscirà a risolvere il problema del precariato, però certo sicuramente aiuterà a avere organici un pochino più sicuri e più stabili a partire dal primo settembre. Tra l'altro, una cosa importante è che una quota di questi posti è riservata a quel famoso organico potenziato che aiuta le scuole a avere più personale a disposizione per i progetti, per le attività. È questo senza dubbi il concorso più atteso e più controverso che la scuola ricordi. Il Ministero ci ha messo mesi per pubblicare il bando. I docenti precari di seconda fascia, estromessi dal piano straordinario di assunzione della riforma, i non abilitati per intenderci, lo contrastano da oltre un anno, rivendicando il diritto automatico alla stabilizzazione. C'è il rischio che ci siano settori in cui c'è una plusvalenza, per così dire, di persone disponibili e settori invece che rimarranno sguarniti? Molto probabilmente la plusvalenza sarà un po' quella storica, penso, nelle materie di tipo letterario, umanistico. Le materie un pochino più tecniche, legate a lauree come ingegneria o simili, sicuramente avranno qualche difficoltà, reperimento. Il mestiere è difficile quello oggi dell'insegnante. Oggi c'è questa grande sfida del concorso, ma sanno bene cosa vanno incontro i nostri candidati oggi. Io penso che l'insegnante sia uno dei più bei lavori del mondo, personalmente. Anche io l'ho fatto per più di vent'anni, l'ho fatto volentieri. Certi tempi sono cambiati, le difficoltà sono aumentate, però se l'insegnante investe nella propria formazione, nel lavoro di gruppo e anche in una buona dosi di empatia, di emotività nei confronti dei suoi alunni, può ottenere ottimi risultati. Grazie. Grazie. Grazie.